La passeggiata urbana di stamattina nel quartiere di Corea è un unicum e comunque una novità rispetto ad altri progetti, stiamo visitando il quartiere, un quartiere sorto negli anni 50 con pochi spazi urbani per la propria configurazione, però cerchiamo di valorizzare quelli che ci sono, scoprirne di altri, insieme ai cittadini vediamo cosa è possibile fare per migliorare la viabilità di un quartiere che è nella zona est della città, vede molte attività commerciali però sotto il profilo dell'ambiente può vedersi migliorato, quindi noi stamattina siamo qui per questa passeggiata ne faremo un'altra similissima a Santa Maria nelle prossime settimane, la nostra idea è questa costruire il patto per l'ambiente ascoltando i cittadini e passeggiando con loro quindi ricevendo qualche complimento ma anche le opportune critiche che se sono costruttive vanno sempre bene